I confini, sia geografici che tra le diverse culture, sono stati il tema conduttore della decima edizione del Festival dell'Oralità Popolare. Per due giorni Piazza Carlo Alberto a Torino ha ospitato dibattiti, laboratori, cultura, musica e cibo da molti paesi del mondo. Presenti anche alcuni volumi della Biblioteca della Regione Piemonte, grazie ad un accordo di collaborazione con la Rete Italiana di Cultura Popolare. Mi sembra che il Festival dell'Oralità sia fatto qualcosa in questa città a livello nazionale, dato che questo è un incontro nazionale, stanno arrivando da tutta Italia e che ha sdoganato l'idea di cultura popolare come qualcosa di passato. Siamo di fronte a un tema forte come quello dei confini, confini culturali, confini relazionali, confini geografici. Molti all'inizio ci avrebbero chiesto cosa c'entra la cultura popolare con, oggi invece lo trovano assolutamente consono al percorso che la Rete ha fatto in questi diacene. La Rete è cambiata, la Rete sta crescendo.